Non ho niente da aggiungere a quello che c'è scritto lì, che diciamo così, di primo acchitto mi sembra, in base all'esperienza che ho vissuto, mi sembra quasi surreale, però di fatto ci sono alcune cose che, quelle cose lì riescono a chi ci prova sempre, a chi si cimenta sempre e chi ci prova sempre, con tutte le forze, quindi la base è quella, come una squadra che fa il triplete, come una squadra che vince tanti titoli nella stessa stagione, vuol dire che ci prova in tutte nella stessa maniera, poi chiaramente la vittoria suscita delle convinzioni interiori che portano a essere determinanti poi nei momenti decisivi e quindi una tira l'altra, però questo è particolare perché è un qualcosa di sistema, quindi un qualcosa che si trasmette in un movimento, non all'interno di un nucleo così ristretto di pepolazione come può essere quella di una singola squadra. Quindi è un qualcosa di importante. Non so, io ho notato per esempio che durante il Covid noi abbiamo lavorato quasi a pieno regime, cosa che tanti paesi non hanno fatto, cosa che tante altre discipline sportive, anche in Italia non hanno fatto. Ma noi non ci siamo fatti mancare niente perché poi tutto quello che di solito facciamo in un'estate normale, in una preparazione primavera, fino inverno e inizio primavera, normale, noi l'abbiamo fatto, almeno ai vertici l'abbiamo fatto. E questo secondo me ha fatto la differenza perché ha trasmesso il messaggio che comunque anche di fronte a una situazione così di disagio, comunque non ci siamo sicuramente seduti. Ecco, questi sono tutti i messaggi che riallacciano a competitività e alla consapevolezza che comunque si prova a far tutto quello che è nelle nostre forze per cercare di perseguire il risultato. Il primo messaggio che tu dai a una ragazza quando viene convocata e si avvicina alla maglia azzurra, qual è? Qual è la prima cosa che dici loro? Creo consapevolezza del privilegio che quella ragazza ha nell'essere stata scelta per onorare l'idea di vestire la maglia all'Italia. Quindi la consapevolezza del privilegio credo che sia il primo passo perché poi tutto il resto si trasforma in motivazione. Quindi il privilegio di vestire la maglia è un qualcosa che spetta a un numero che rispetto ai numeri da cui partiamo per la selezione è qualcosa di veramente esiguo. Giusto stamattina ho uno stage di selezione al centro pavesi e abbiamo affrontato questo argomento, ho fatto un esempio di come le decine di migliaia di ragazze della loro età diventano 700-800 ragazze negli stage regionali, diventano 80-90-100 ragazze nel complessivo degli stage nazionali e diventano 25-30 ragazze che vestiranno la maglia azzurra in una delle tre categorie. Quindi questo percorso ovviamente non deve assolutamente far dimenticare il privilegio che presuppone. E quanta responsabilità c'è da parte vostra? Come dice lo zio di Spider-Man a grandi poteri, in questo caso privilegi e corrispondono grandi responsabilità. Grazie, grazie a voi.